Agli oltre 300 membri della multinazionale europea Sext ricevuti in udienza in Vaticano, il Papa ha raccomandato di proseguire l'impegno sociale ed umano in favore dei bambini che si trovano in varie situazioni di disagio, certi che questa sia anche la priorità del successore di Pietro. Voi, ha detto il Pontefice, attraverso la fondazione Drying Little Tears unite il lavoro professionale ad una vocazione nobile che non si ferma al successo o al profitto, ma cerca piuttosto di servire il bene comune e lo fa anche con progetti capaci di asciugare le lacrime dei più deboli. Asciugare le loro lacrime attraverso progetti concreti in loro aiuto significa contrastare la cultura dello scarto e contribuire ad edificare una società più umana. vi incoraggio a proseguire questa vostra attività con la convinzione che la tenerezza di Dio si rispecchia in modo particolare nei bambini innocenti, bisognosi di attenzione e di sostegno.